Ciao a tutti, prepariamo insieme oggi i carciofini sott'olio, ricetta perfetta di nonna maria. Scegliete i carciofini che siano integri e freschi. Pulite i carciofini, eliminate le foglie più dure e rifinite il gambo. Tagliate le estremità del carciofo e strofinateli con il limone. Immergete quindi i carciofi in acqua, limone e prezzemolo. Versate il vino bianco, l'aceto. E il pepe in grani. Aggiustate di sale e portate a bollore. Cuocete i carciofini per 3-4 minuti aggiungendo una foglia di alloro. Controllate la cottura con uno stecco o con una forchetta. Scolate i carciofini e trasferiteli in una ciotola. Disponete quindi i carciofini su un canovaccio pulito a testa in giù e lasciatele asciugare per 5-6 ore, meglio se per tutta la notte. Come vedete i nostri carciofini sono asciutti e quindi adesso aggiungiamo l'olio. L'aglio e la menta. Mescolate. Dopo aver sterilizzato i boccacci aggiungete olio alla base, l'origano, la menta e quindi iniziate a sistemare i carciofini. Dopo aver fatto il primo strato di carciofini aggiungete ancora menta, origano e quindi olio. Naturalmente se volete potete aggiungere anche altre spezie, quindi peperoncino, pepe in grani o altro. Continuate così fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Premete ad ogni strato per eliminare l'aria. Ricoprite i carciofini con l'olio, aspettate qualche ora e controllatene il livello. Se serve aggiungetene ancora. Quindi richiudete i barattoli con i coperchi sterilizzati e conservate in dispensa. Grazie. 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 Grazie.